Siamo nel comitato elettorale del candidato sindaco Dario Di Matteo, candidato della lista Teverola in testa. Abbiamo notato che lei in questa campagna elettorale sta puntando molto su alcuni temi importanti come l'apertura dell'asilo nido ad esempio. L'asilo nido è uno dei punti del nostro programma elettorale che porteremo avanti con determinazione perché abbiamo avuto un esperimento che abbiamo fatto con l'amministrazione sottoscritta nel 2018 ed è stato un grandissimo successo. Grandissimo successo perché per la prima volta nel 2018 fu inaugurato questo asilo nido attraverso il nostro ambito sociosanitario e il gradimento fu enorme perché è un tipo di servizio che non abbiamo mai avuto nel nostro comune ed è stato non solo richiesto nell'immediato che purtroppo nei 5 anni trascorsi nessuno ha attivato quindi noi ci impegniamo ad attivare un asilo nido comunale. Un'altra tematica che fra l'altro insomma le fa anche onore riguarda la tutela degli animali e la realizzazione di un rifugio. Ce la puoi spiegare? Allora il comune di Teverula ha un'area a nord ovest della città, non andando verso Andamica, poi vedete di oltre 5.500 metri. È un'area che per anni dopo l'emergenza di rifiuti che fu acquistito e spropriato nel 2007 è rimasto abbandonato. Noi riteniamo che per la somma che annualmente il nostro ente impegna è di circa tra i 25 e 30 mila euro possiamo attivare anche un servizio intercomunale che consente non solo di economizzare l'attività di rifugio che in questo caso è di contrasto al randaggismo ma soprattutto possiamo avere anche la possibilità di estendere questo servizio in maniera intercomunale ai comuni di Mitrofi. Per cui diventerebbe un'opportunità sia dal punto di vista economico ma anche un'opportunità per potenziare l'attività che in questo momento su questo tema viene svolta gratuitamente da tanti volontari. Lei sta proseguendo la sua campagna d'ascolto tra i cittadini. Sappiamo che un'istanza che sta a cuore ai Teveroli si riguarda una nuova struttura sportiva nell'istituto Ungaretti. È così? Sì, allora noi fortunatamente come ho già detto in altre occasioni la nostra campagna elettorale è stata programmata. Noi stiamo portando la narrazione del nostro programma elettorale di fatto dal gennaio di quest'anno. Sono ormai cinque mesi che abbiamo individuato tutte le criticità infrastrutturali della città e tale da poterci consentire di stilare un programma che corrisponde alle misure precise della nostra comunità. Ovvero, nella scuola Giuseppe Ungaretti, sono due anni che la tendo struttura è inagibile. Per cui noi non è che dobbiamo ricercare in un programma fantascientifico delle cose che poi devono essere anche idealizzabili. L'esigenza è semplice. Dobbiamo costruire, dobbiamo realizzare una palestra adeguata per fare in modo che la platea scolastica di tutti i ragazzi che frequentano l'Istituto Ungaretti possano svolgere una disciplina sportiva che si pratica in tutte le comunità e le realtà civili di questo mondo. Non è possibile che nel 2024 oltre 1.600, una platea con 1.600 rulli, non hanno una struttura sportiva adeguata. Lei sottolineava i suoi punti programmatici, è un lavoro fatto già da tempo, un percorso avviato mesi fa. È un modo per dire che gli avversari stanno un po' copiando il programma di Matteo? Guardi, io solitamente lavoro sul mio campo da gioco, per cui in questo caso è una partita quindi dobbiamo anche non solo attaccare, difendere e attaccare per portare il risultato a casa e quindi c'è da fare l'analisi di quello che accade anche nelle altre compagni. È evidente che se una squadra individua un candidato sindaco dopo che ne ha cambiati due, tre, è evidente che probabilmente non c'è programmazione, c'è improvvisazione. Siccome noi abbiamo fatto dei discorsi politici anche con altre realtà che sono sulla squadra sul territorio, ma avevamo ben chiaro che cosa volesse fare questa squadra, a prescindere diciamo dal leader, dove c'è approssimazione solitamente si improvvisa e quando si improvvisa non si può fare altro che andare a replicare quello che in questo caso Teperola in testa ha messo in campo dal mese di dicembre e quindi è inevitabile che un'improvvisazione non può essere mai originale. Chiudiamo con una nota curiosa, il candidato sindaco Gennaro Caserta ha detto ai cittadini diffidate da chi parla bene in italiano e veste bene, è rivolto a lei o in ogni caso lei che cosa replica? Guardi, io sono costretto a riascoltare quello che dicono i miei competitor, in particolare l'amico mio Gennaro, perché per avere un contraddittore devo necessariamente fare un'analisi puntuale, non posso dire cose così in astratto. Ovviamente nel riascoltare il circo di limitare questo lavoro che per me è molto pesante, è frustrante sentire un'anatrazione di uno che parla di abiti, tre abiti al giorno, un abito al giorno che si cambia in campagna, una serie di cose diffidate da chi parla bene in italiano. Noi siamo nella Repubblica Italiana, tutti siamo stati a fare una competizione diciamo nel Nord Africa, abbiamo parlato africano, qui penso che dobbiamo almeno parlare in italiano. Dopodiché, voglio dire, diffidate da cosa? Da chi? Da chi cerca di portare avanti un programma con serietà, avendo un linguaggio minimo da farsi comprendere e cercare di essere compreso da tutta la platea. Se questa è una colpa, voglio dire, la prossima volta probabilmente cercheremo di trasferirle il nostro programma in una lingua che magari è convenzionale, a Gennaro, non so insomma di che cose, ma per fare una, come dire, anche se riusciamo a banalizzare una campagna elettorale su questa roba, io credo che noi siamo veramente alla frutta, insomma questo è, cerchiamo di avere un confronto serio, politico, strutturato sui temi. Siamo qui per confrontarci, glielo ho detto, lo ribadisco, diciamo sui temi, voglio dire, poi sento gente che parla, usano, diciamo di loro qualche adepto, diciamo qualche ex pretoriano, che purtroppo sono passati alla curte di altri imperatori, però voglio dire, se questa roba poi noi dobbiamo usarla, parliamo con i capitani, devono parlare i capitani delle squadre, i capitani parlano con i capitani, diciamo, e tutta la squadra si confronto con gli altri livelli della squadra, questo è quello che vuole dire. Niente di più, insomma, il direttore ha voluto strappare e, diciamo, una battuta, io gli ho accorgetto volentieri, ma anche per rendere la campagna elettorale più fluida e simpatica, insomma, altrimenti diventiamo, come dire, pesanti e così, insomma, la leggeriamo un po', via! Grazie!